della simulata per rappresentare una situazione che sarà poi lo spunto per magari riflettere insieme su qualcosa che non serve, che può essere utile. Ovviamente questi incontri che abbiamo detto anche l'altra volta hanno un carattere veramente di confronto e io non credo di poter portare elementi teorici, nuovi, a persone che già lavorano da molto tempo, con impegno da tanto tempo in questo settore e che sul piano educativo secondo me hanno fatto una formazione, hanno fatto un percorso, eccetera, credo invece che è proprio dal confronto e dall'elaborazione che possiamo fare insieme che voi e io, perché voi anche per molte volte ad apprendimento, possiamo trarre proprio quegli elementi che non ci servono per gestire meglio le attività e le situazioni che ci danno con tutti i giorni. Voi vi trovate una volta che sono sicuramente molto impegnativi, perché negli ultimi anni ci sono dei cambiamenti rapidissimi in corso, soprattutto rispetto alle donne. e quindi, come dire, impostate una certa modalità e vi accorgete che bisogna già modificare qualche cosa, no? questo è anche un po' la percezione che abbiamo noi che lavoriamo con i ragazzi, con gli adolescenti, in un altro attimo, in quello scolastico nel momento in cui ci sembra di aver capito, quindi proviamo a mettere in alto delle strategie perché ci accorgiamo che c'era un cambiamento ulteriore che facciamo fatica a rilevare, no? quindi c'è un po' questa forza il discorso che avevamo poi mostrato anche la notte scorsa anche la notte scorsa anche la notte scorsa ciao a tutti 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 per dirmi conosci e mi presento Dano Palla Giorgetti sono una sociologa nella vicenda di San Chiare che essenzialmente lavoro nelle scuole presso i servizi di consulenza per i genitori, i insegnanti e i ragazzi e andiamo a scuole dai mediascoli e tutte le visite di per me, no? in infanzia durante le altre secondarie e il tuo uomo è con questa vista di lavorare in vari ambiti e di vicevalidare sia da sportelli pubblici che sono un ambiente insomma privato ecco questa è un po' la mia identità diciamo professionale e come identità invece personale a me Giulia più o meno lo sa sono abbastanza vicina a voi come diciamo gruppo scout per vari motivi mi sono incrociata nella mia vita molto spesso al di là del fatto la polignano forse c'è un numero abbastanza alto quindi è impossibile ogni tanto poter incontrare qualcuno però insomma mi è capitato spesso di incrociarmi non solo a livello professionale ma soprattutto a livello umano personale in amicizia con le persone che hanno collaborato in questo ambito e quindi mi è venuto abbastanza spontaneo abbastanza naturale che credo che questa sia stata un po' la motivazione di chi ha pensato di diciamo chiedere la mia presenza qui no? pensato che io sia insomma un po' dentro un po' fuori no? un po' dentro un po' per conoscenza ma esterna fuori rispetto proprio alla mia collocazione quindi con Nadia abbiamo preparato questa attività stasera quindi non la farei tanto lunga e partirei da qui prima una presentazione della vostra e rispetto all'attività Giulia mi dovrà aiutare anche io con i ruoli insomma un po' ci sto ma poi ogni tanto mi confondo quindi avrò bisogno di essere un po' aiutata facciamomi un po' di presentazione poi magari ti conoscerete più o meno io qualcuno conosco io sono Dora Maria e sono Dora Maria quindi fa applicare inglesi quest'anno al quarto anno in questo secondo giro di servizio bene senti Maria le aspettative per la serata? e noi abbiamo un caso di un bambino di filosta che è arrivato da settimane e abbiamo una situazione nuova che sta un po' mettendoci alla prova come il branco e come i capi che troviamo queste situazioni e io sono Alberto sono anche la capolità del gruppo San Veto delle e come aspettativa un pochino magari riuscire a capire come affrontare determinate situazioni sia quelle che magari ho presentato insieme alla messa tramite il foglio eccetera sia una nuova situazione che si è presentata di un ragazzino con difficoltà qui elementare e che ci ha messo un pochino ecco ci ha messo una prova anche se rispetto a quella che era la nostra idea iniziale si è dimostrato un pochino problematico di quanto pensavamo però sembra che ci sono delle cose che non riusciamo ancora bene a inquadrare perché non abbiamo mai avuto un accroccio con una disabilità in questo tema bene allora sono il capo unità di Fumignano 1 e dal secondo anno noi come problematica un bambino credo che è più imposto che in cui non si raziona è stato consigliato proprio da una psicologa di valutazione di scout che decide da si e ultimamente ti capita spesso che i psicologi si si abbiamo due case abbiamo uno e purtroppo una addirittura anche il numero ripete un anno quindi in realtà è diventa di terza diventa una alla seconda un altro invece non parla non si relaziona anzi ha anche difficoltà se tu vogliamo il proprio prendere un mano che si sentirà un po' su questo però vabbè siamo diciamo un po' un po' le mani per capire un branco che comunque riesce magicamente è un po' un po' e finora non è che ne abbiamo avuti adesso c'è una bambina mi sa si è una bambina che abbiamo notato subito che ci va non tratta che ci va un po' un po' ma mi sa che finora non c'erano stare magari forse non è che conosciamo adesso anche abbiamo avuto il modo di parlare con la madre insomma non è il paragone della bambina mi pare che è così ma ecco insomma le regole farla inserirla nel gruppo e alla vitima tua è necessaria la mamma e diciamo che anche noi è necessaria anche la mamma insomma quindi le aspettative sono anche per te in questa direzione sì almeno così gestirla anche perché ha un problema di vabbè poi la capacità siamo dello stesso gruppo mi chiamo Martina e questo è il primo anno come tra unità nel 20 sono già 4 anni che ci sto però questo è il primo come tra unità diciamo che noi nel questionario abbiamo presentato un caso di iperattività del bambino che abbiamo avuto e poi quest'anno perché è un caso che già abbiamo diciamo così affrontato di un bambino che abbiamo visto nel pranzo per diversi anni questa invece è una bambina che è entrata quest'anno quindi abbiamo avuto poche occasioni ancora a restare con lei parlare un po' anche di questa di questa problematica ci interessa soprattutto un po' il dubbio che ci poniamo è magari finquanto possa essere giusto programmare delle attività che siano adeguate per lei che però magari possono andare un po' al discapito tutti gli altri e viceversa cioè è un equilibrio in questo in cose che può fare lei e cose che però amare stimolino un po' di più anche gli altri bambini perché è ovvio che non si possono fare sempre cose di manualità cose che insomma accessibili a lei ecco va questo però è lo stesso problema che spesso si trova ad affrontare la scuola ma non cerca di dare una un'implicazione vera si è capito perché fanno anche insegnate il sostegno quindi che è difficile anche in quel contesto ad affrontare esigenze io sono Daniela di Montesiva 1 capocolonia i bambini che sono dell'interiore quindi dai 5-7 anni quest'anno non abbiamo classi particolari abbiamo finito l'anno scorso uno in particolare che abbiamo conosciuto anche le altre colonie e infatti ho mandato questo bambino che sono particolarmente per altri si si e quest'anno abbiamo solo due un po' scalmanati che è stato tirando dentro di loro un terzo ma ora stiamo solo studiando che si parla solo scalmanati però poi vediamo poi devolversi l'aspettative è trovare proprio per me la chiave di lettura cioè il linguaggio qualcosa che possa entrare dentro di loro una parola un gesto un comportamento tale che ricatturi la loro attenzione questa è la cosa Virginia e il mio primo anno con i castorini sono stata sempre con le ragazze con le guide e nella vita diciamo che ho a che fare con i bambini nel momento sono in lavoro nella casa famiglia quindi il discorso del bambino particolare mi interessa anche per motivi fuori nello scautismo ma anche perché sempre più se ne vede è quasi la normalità quindi trovare interesse insomma come voi vada gli elano per cercare le chiavi bene io sono lina sono fratelli e il primo anno per me che sono qui gli scatti quindi ancora i ragazzi non li conosco la prima volta adesso mi piano mi esprimizzano un po' io sono Sara la via nel Bruttamare Uva e primo anno in branco dopo quattro anni in reparto devasto totale perché la realtà è completamente diversa e abbiamo tre case molto particolari tra cui un bambino adottato viene dalla Russia e è arrivato l'anno scorso il sabato è uscito fuori cioè mentre le prime riunioni sembrava che il sabato è uscito fuori ci ha mandato un attimo in crisi un altro ragazzino che ha problemi a livello di dislessia e disgrafia inconsapevole di questo idroattivo e un altro che l'ho preso io sotto la mia custodia abbiamo un po' pensato di essendo tanto come capi di mirare l'azione di un capo di modo che non tutti ci mettono la bocca così interviene solamente quel capo così da creare magari un rapporto da provare a giro stanno citati esatto abbiamo questa fortuna quindi buon saluto è il grande capo allora io sono Stefano farò aiuto capo delle coccinelle mi chiamo Scotti e avevo certi noi abbiamo una bambina imperattiva che è stata adottata da poco io ho questo lento quindi alle coccinelle quindi non è che ancora tu capisci tante cose però questa imperattiva che non sta a sentire nessuno ha un passato molto particolare tu forse la conosci mai di me sicuramente per cui cercivo quasi una persona apposta per restare ieri perché uno scappa in continuo non può fare niente si si esclude da tutti pare che sta sulle nuove poi parte del razzo quindi un problema abbastanza grande vabbè noi abbiamo la possibilità ecco di stampa il più vicino perché abbiamo un po' che capi più per cui come detto sarà mirata quindi per male a tenerla però è poco gestibile però andiamo a no era una mia considerazione come si lamenta che andiamo sempre da lui a chiedere aiuto certo c'è tanti capi e allora io sono Lucia sono una responsabile di zona perciò hanno anche affare con i bambini con i grandi non so se meglio o peggio però facciamo questa riunione questa è la seconda e lo che invece ho visto l'altra volta perché è un segno per lavorare il press appunto perché c'è stata questa richiesta da parte dei capi un attimino di fermarsi e capire come intervenire in determinati casi siamo contenti che questa cosa si sia realizzata finalmente perché dobbiamo avere gli strumenti umani sono Mauro è il primo faccio l'aiuto capo in Branca LC è il primo anno in Branca LC e la prima del mio esame è stata abbastanza drammatica e le aspettative dalla serata sono quelle di ecco qualche spunto qualche spunto di riflessione è inutile per poi il servizio grande sono Rosalba capo colonia del Pescara 4 e terzo anno consecutivo anche se una mia prima esperienza diciamo e in colonia attualmente sembra che a livello bambini c'è partecipazione e non al momento non vedo problemi rilevanti tranne che con una mamma infatti però non so se qui può potremmo essere un argomento che fa la relazione con i genitori perché è l'unico problema che si presenta quest'anno diciamo ok io sono Davide del Pertamare 3 capo unità del Banca Lutetti noi problemi evidenti non ne abbiamo quindi rispettere la strada semplicemente poi magari qualche spunto per approcciarmi nel caso poi si potremmo essere presentabile in situazioni problematiche bene io sono Barbara e sono un capo di piano 1 e niente sono qui in realtà mi sono posto un sacco di problemi che questa sera perché in realtà nel senso diciamo soprattutto nei confronti di Giulia che in questo momento deve essere odia però diciamo che stanotte dopo una riflessione di una serata mi hanno arrivato l'intenzione di un'articipazione stasera e più peraltro anche un po' per curiosità un po' perché diciamo comunque sia spero che mi possa aiutare perché in questo momento soprattutto nell'ambito lavorativo lavoro con ragazzi che hanno problemi diciamo va bene le mie sono più grandi che ripeti però sono problemi anche abbastanza gravi a prescindere personalmente però la difficoltà per noi maggiore è quella sempre di riuscire a stabilire un contatto diretto con loro perché soprattutto quelli con difficoltà si giudono proprio c'è un aspetto di usura nonostante uno cerchi sempre di rompere per cui quindi dico magari che ne so come si diceva di imparare potrebbe venire fuori in un scuola di 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 un scuola che era un'esperienza che aveva fatto una galleria a sudepo e mi aspetto di casa di un scuola di un scuola di un scuola di un scuola